Forse l'asfalto bagnato o forse una distrazione del conducente alla base della perdita di controllo di una Chevrolet Spark condotta da un trentenne di Fano che procedeva in direzione Monte in località Ponte Murello che per causa ancora al vaglio della polizia locale si è schiantata intraversandosi sulla careggiata contro la parte frontale di un autobus dell'Ami della linea 25 che procedeva in direzione Monte con una ventina di passeggeri a bordo Illesi gli occupanti del bus come anche il suo autista rimasto però scosso dalla dinamica dell'incidente avendo visto l'auto perdere il controllo davanti a sé ma non potendo fare nulla per evitare l'urto anche se non violentissimo che ha causato al conducente dell'auto ferite lievi per le quali è stato trasportato dai sanitari del 118 in codice giallo al pronto soccorso del Santa Croce di Fano per accertamenti Il traffico ha subito notevoli rallentamenti dato che per la rimozione dei due mezzi è stato necessario chiudere al traffico il tratto di nazionale interessato sul quale sono intervenute tre pattuglie della polizia locale di Fano che si è occupata anche dei rilievi di legge ed una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'intera area